Sì! 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 Io avrei scritto un piccolo pezzo di canale contro l'anima di un miliare l'anima di un cinema a un tema dove nessuno c'è lui di essere a parte e quindi non posso farlo di fare questo di lasciare queste due poesie come assorriamo perché questa è la forma di un'altra Sì! 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 Puoi di silenzio per favore? Non è importante cosa scriva il suo dubbio, il suo mondo di l'anima se vende, se non vende, se è pubblico, se non pubblico l'importante è che lo scriva non mi importa se è leggera, se è rapita, se è tradizio l'importante è scrivere e farlo un calcolo su questa tastiera come un mitra, come uno scuolo, un avanzo nella pagina come un piano, come un assaglio per lì sparo il tuo occhio, non ho l'altro se è giusto che mi sono arrivati ancora come passano i punti della prima come mi viene dopo? come mi viene meglio? come mi viene meglio? come mi viene meglio? l'importante è che cosa l'importante è che una del svolto l'importante è per andare in giro se non mi viene nel mio sogno decido sì! cosa importa se ci restano da mangiare? l'importante è scrivere l'importante è sforzare l'importante è camminare su una pagina l'importante è fare amore con i casti l'importante è tanto rivelmente per cui c'è una pagina io ci faccio un certo adattare la brutta razza all'interdata e procreario questa è la di adu-gare la filosofia di strutture Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.